Non ci sta a farsi zittire e risponde per le rime. A un'edifonte il livello è già caldissimo da lunedì quando i primi 22 migranti sono arrivati all'ex convento, ma far imbufalire ulteriormente il primo cittadino a poche ore dall'assemblea pubblica e municipio è stata la severa nota della prefettura che ieri ha stigmatizzato le polemiche del sindaco specificando come fosse costantemente informato della situazione. Una ricostruzione smentita dal diretto interessato. Ma informato di cosa? Io i primi di agosto ho sentito la prefettura, mi hanno detto al momento non c'è alcun rapporto formale con questo consorzio restituire, che è questa cooperativa che dopo gettisce questa cosa. Ma sarà informato a tempo debito. Io non li ho più sentiti, non ho ricevuto alcun comunicato, tranne alle ore 11.20 dell'altro giorno, il 22 di agosto, quando i migranti stavano per mancare il cancello. Certo, continua Tondi, so bene come tutti quanti che dal 2016 l'ex convento di Onè era uno dei siti scelti per l'arrivo dei migranti. Ma è altrettanto noto al prefetto, che io ho detto mille volte e l'ho scritto altrettanto mille volte, che a Onè siamo già a posto, che abbiamo già il 25% di stranieri e che abbiamo nelle classi delle scuole elementari anche il 70% di bambini. Insomma il no è ribadito, come è accaduto nella fiaccolata di un anno fa. Allora si trattava di opporsi a 200 migranti, ma anche con il numero di 77, quello stabilito dall'ULS, ci sarebbero problemi, secondo Tondi, che dalla prefettura esige chiarezza. Se rimane tutto nel limbo così e dopo la prima occasione ne arriva un'altra corriera, l'altro un'altra, cioè a me questo non sta bene, perché io questo chiedo, io voglio sapere il numero esatto. Voglio, voglio delle garanzie precise, scritte, non voglio chiacchere neanche prediche. E sbotta definitivamente quando ricorda la dura nota del prefetto. Mi sono un sindaco, con i voti, non ho abito concorsi, ho l'obbligo di difendere i miei cittadini, che scrivo anche al presidente Mattarella.